Mi trovo davanti alla sede della Federazione Provinciale di Taranto del PD, laddove lunedì alle 15 si terrà la direzione provinciale proprio per prendere posizione nei confronti di ciò che ha combinato Rinaldo Melucci. Sapete, Melucci ha cacciato come assessore Francesca Vigiano, ha nominato vice sindaco Gianni Azzaro del PD senza neanche coinvolgere il PD stesso, insomma tutta una serie di scelte fatte a testa sua, una rivoluzione in giunta, una rivoluzione in maggioranza e il PD sta lì. Il PD come reazione ha fatto questa scelta, dice noi ritiriamo le deleghe degli assessori e daremo l'appoggio esterno. Allora qui dobbiamo capirci, questi giochetti, queste manfrine, appoggio esterno non serve a niente, voi dovete essere chiari signori del PD, o siete carne o siete pesce, cioè o decidete e dite, noi a questo punto rompiamo con Melucci, ritiriamo le deleghe, nessun appoggio esterno, usciamo, andiamo all'opposizione e succeda quello che succeda, ivi compresa la caduta dell'amministrazione comunale, ma non potete voi giocare, fare il doppio gioco e dire, ma noi ritiriamo le deleghe però diamo l'appoggio esterno, e che significa? E che significa che voi lo tenete comunque, continuerete comunque a tenerlo in piedi, cioè lo tenete attaccato alla macchina, non solo perdete gli assessori, ma Melucci nominerà altri assessori e voi starete lì a dare l'appoggio esterno, cosa farete? Reggerete la candela? Reggerete il moccolo? Mi rivolgo alla segreteria provinciale, alla segreteria regionale, ma alla segreteria provinciale, alla segretaria Filippetti e quant'altro, ma vi rendete conto cosa state facendo? Voi vi rendete corresponsabili dell'agonia di Taranto, perché tenere in piedi Melucci, dargli l'appoggio esterno, dargli ossigeno, significa far sopravvivere Melucci e far sì che a Taranto perduri questo stato di coma, questo stato di agonia, questa è la cosa grave, ma mi trovo qui in via Basile, giusto per una deformazione professionale, voi vi state rendendo corresponsabili del degrado di Taranto, guardate qui, questa è solo una cosa simbolica, sintomatica di quello che sto dicendo, oltretutto guardate qui altra situazione di degrado, questa è l'immagine signori cari dell'amministrazione Melucci che voi vi state ostinando a voler a tutti i costi mantenere in piedi, ma al di là di questa mia digressione, di questa mia battuta, posso dire una cosa senza tema di smentita, dovete uscire le palle signori del PD, o siete carne o siete pesce, allora lunedì fate una bella cosa, stabilite la linea e dite ci contiamo, la linea del PD è questa, si tolgono le deleghe, si passa all'opposizione, oramai con Melucci è chiuso, ci contiamo, vediamo chi sono i consiglieri, vediamo chi sono gli assessori e si decide, questo fa un partito democratico, se però voi tenete, manterrete l'appoggio esterno vorrà dire che anche molti, quasi tutti i vostri consiglieri vogliono difendere la poltrona in consiglio comunale e vogliono mantenere il loro posto e voi non volete far cadere tutto, questa è la verità, per cui decidete, o siete carne o siete pesce, se darete l'appoggio esterno, appoggio esterno significa appoggiare Melucci e quindi essere corresponsabili del barato, del punto più profondo di sprofondamento, il punto più profondo di questo barato in cui Taranto sta precipitando, anzi è precipitata e sarete voi quelli che, come dire, avrete dato la spinta definitiva per affossare definitivamente, per cui lunedì valutate, valutate, per un fatto morale, per un fatto di scelta, per un fatto di rispetto verso il cittadino, ma com'è? Melucci vi prende a schiaffi e voi state lì a continuare a farvi schiaffeggiare? Aprite gli occhi!